Telefonata minatoria all'avvocato d'ufficio di Matteo Messina Denaro. Piano nazionale di ripresa e resilienza, firmato il protocollo alla Regione. Glaucoma, controlli gratuiti in piazza fino a venerdì 17. Da Serra di Falco a Canale 5, la favola di Riccardo. Calcio, i tifosi etnei preparano l'esodo verso Caltanissetta. Bentrovati con l'informazione, iniziamo il telegiornale con la cronaca telefonata minatoria all'avvocato Calogero Montante di Canicattì, l'intervento della prefettura di Agrigento, i particolari nel servizio. La prefettura di Agrigento ha attivato misure di sicurezza per l'avvocato Calogero Montante di Canicattì in attesa di affrontare il caso della telefonata minatoria nel prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La chiamata al penalista è arrivata alle 14.02 di sabato scorso sul telefono cellulare collegato in deviazione di chiamata con quella dello studio legale di Canicattì. L'avvocato Montante, mercoledì scorso, è stato nominato presso il foro di Caltanissetta, difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro. Si tratta del processo d'appello sui mandanti delle stragi di Capace e via D'Amelio, in corso a Caltanissetta, dove il boss è imputato. Un procedimento per il quale è stato già condannato all'ergastolo in primo grado, quando era ancora latitante. Matteo Messina Denaro avrebbe dovuto essere difeso da sua nipote, l'avvocato Lorenza Guttadauro, che ha rinunciato in quanto figlia di Rosetta Messina Denaro, arrestata il 3 marzo. È stato quindi nominato un avvocato d'ufficio e la scelta è ricaduta sul legale Calogero Montante di Canicattì, che ha subito evidenziato l'inopportunità di svolgere l'attività difensiva. Sabato poi è arrivata la telefonata minatoria. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha firmato alla Regione il protocollo con le parti sociali. È stato siglato a Palermo, a Palazzo d'Orleanse, tra il Governo regionale della Sicilia e parti sociali, il protocollo per la partecipazione e il confronto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari. La firma sul documento è stata posta dal Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, dai segretari generali regionali della CGL Alfio Mannino, della CISL Sebastiano Cappuccio, della UIL Luisella Lionti e della UGL Sicilia Giuseppe Messina e il Vicepresidente dell'Anci Sicilia Giulio Tantillo. Questo protocollo, ha detto il Governatore, segna un importante passo avanti per la Sicilia nella prospettiva delle sfide che ci attendono nei prossimi anni con la programmazione e la spesa delle risorse nazionali ed europee. Accogliamo con favore il confronto con il Sindacato, soprattutto quando si inizia un percorso strategico di sviluppo. È fondamentale la collaborazione leale di tutti gli attori, con i quali dialogheremo costantemente con l'intento di tutelare l'interesse comune e la correttezza dei conti pubblici per il bene della Sicilia e dei siciliani. Con la sottoscrizione dell'accordo si dà ufficialmente il via ai lavori del tavolo regionale territoriale e di settore, che sarà convocato con regolarità e che sarà composto dal Governatore o da un suo delegato, dal coordinatore della cabina di regia regionale, dal dirigente generale della programmazione, dai dirigenti generali dei dipartimenti di riferimento rispetto alle materie di volta in volta trattate e da un rappresentante per ognuna delle parti che hanno firmato il protocollo. Settimana mondiale del Glaucoma, controlli gratuiti in Piazza Garibaldi fino a venerdì 17. Il servizio. Check-up oculistici gratuiti con verifica della pressione oculare verranno effettuati da lunedì 13 a venerdì 17 marzo in Piazza Garibaldi a Caltanissetta. All'interno dell'unità mobile oftalmica, un camper itinerante attrezzato di specifica strumentazione oculistica. L'iniziativa, voluta a livello nazionale dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, in collaborazione con la sezione territoriale UICI di Caltanissetta, si svolge in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, malattia oftalmica spesso silente dovuta generalmente ad una pressione oculare troppo alta che, quando non curata, può danneggiare il nervo ottico. All'interno dell'apposito stand saranno inoltre distribuiti opuscoli informativi appositamente predisposti. L'UICI invita la cittadinanza a non perdere questo significativo appuntamento di prevenzione e sensibilizzazione. Un semplice controllo oculistico può permettere di riconoscere questa malattia, quando i sintomi non si sono ancora manifestati, e proteggere i nostri occhi. Disturbi alimentari, l'iniziativa dell'Associazione Casa Rosetta in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. I particolari? Mercoledì 15 marzo sarà la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari e Casa Rosetta terrà nella mattinata dalle 9.30 al centro, in corso Umberto I, 178 a Caltanissetta, alcuni laboratori guidati dagli psicologi dell'Associazione e rivolte ai giovani sui temi del sano rapporto con il cibo, le emozioni, la percezione della propria immagine. In chi sta accanto resta la sensazione di non aver fatto abbastanza, ha detto il presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo, che ha poi aggiunto, il problema purtroppo ha una diffusione crescente e generalmente non viene percepito come tale dalla persona interessata e dai familiari. Nelle strutture di Casa Rosetta sono stati spesso colti segni di questa criticità che spesso a compagno si sovrappone a dipendenze patologiche. L'iniziativa del 15 marzo al centro propone ai giovani partecipanti i corretti stili di vita e intende sensibilizzare a intervenire in modo preventivo sui disturbi del comportamento alimentare, ai quali Casa Rosetta dedica da anni grande attenzione e molto impegno al tema dei disturbi del comportamento alimentare. Le conseguenze talvolta sono irreparabili, dicevamo, e addirittura mortali. La giornata nazionale, che ha come simbolo logo un fiocchetto lilla, è stata istituita per iniziativa di un padre che nel 2011 ha visto morire di bulimia sua figlia ragazza di 17 anni. Dasti comunica i dati di controllo effettuati dalla Polizia Municipale, dal report emesso dagli agenti della Polizia Municipale, per la settimana appena trascorsa, dal 6 all'11 marzo emerge il dato di rifiuti irregolari contro i 7 non conformi, su un totale di 17. Accertamente eseguiti in diverse vie, da De Cosmi, Fasci Siciliani, Stazzone, Viale Amedeo, Regina Margherita, Gramsci, Pola e Averna. La sanzione dei verbali elevati dalla Polizia Municipale parte da 170 euro fino a un massimo di 600. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. Ufficio Tributi di Caltanissetta è stato potenziato all'assistenza telefonica. I particolari? L'amministrazione comunale di Caltanissetta informa i cittadini su una nuova novità inerente al funzionamento dell'Ufficio Tributi del Comune e del Capologo Nisseno, che riguarda soprattutto i contribuenti interessati dall'Atari. È stato potenziato il servizio di Helpdesk, raggiungibile telefonicamente anche su nuove numerazioni o tramite mail da mercoledì 15 marzo. I riferimenti sono lo 0934 1935 118, attivo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18, mentre l'indirizzo mail dedicato su portotributi.caltanissetta.info. Il numero già esistente è lo 0934 74 822, sarà attivo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Intanto sono stati emessi gli avvisi di pagamento Tari 2023, pagabili adesso anche tramite sistema di pagamento Pagopà, oltre che con l'F24. È stato attivato e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente il portale per i tributi LinkMate, tramite il quale l'interessato può agevolmente comunicare con l'ufficio Tributi. Per raggiungere al meglio i cittadini, il Comune ha lanciato l'uso dei servizi di messaggistica messi a disposizione da App.io per essere sempre aggiornati sulle comunicazioni del Comune. Sono stati firmati alla presenza dell'assessore alla funzione pubblica Andrea Messina e della dirigente generale Carmen Madonia i primi contratti di lavoro a tempo indeterminato per funzionari tecnici vincitori del concorso per il ricambio generazionale alla Regione Sicilia. I neoassunti, 21 sui 24 previsti dal bando di concorso, andranno a implementare gli organici dei diversi assessorati con competenze nell'ambito della tutela e della valorizzazione del territorio, della pianificazione e dello sviluppo dei territori. Per i restanti tre si darà corso nei prossimi giorni allo scorrimento in graduatoria. I nuovi funzionari tecnici sono stati destinatari a diversi uffici dell'amministrazione regionale, sia a Palermo che nelle diverse province, in relazione al fabbisogno di organico. Per tutti l'immissione in servizio avverrà il prossimo 18 aprile. Intelligenza nelle mani, il valore dell'alternanza scuola-lavoro, il convegno al Teatro Margherita di Caltanissetta, tutti particolari. Si chiama Intelligenza tra le mani, il convegno dove si discute il valore dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato ai fini dell'orientamento scolastico. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. Abbiamo organizzato oggi questo convegno regionale perché è fondamentale far sì che le scuole incontrino il mondo del lavoro per dare opportunità agli studenti al fine di sviluppare le cosiddette competenze soft, soft skills, che sono tanto apprezzate dalle imprese proprio per la crescita del mondo impreditoriale e del territorio in particolare. Alternanza scuola-lavoro ma anche apprendistato sono dei percorsi estremamente efficaci che le scuole ormai realizzano da almeno quattro anni. L'USR ha voluto promuovere l'intervento per promuovere l'apprendistato come strumento validissimo ed efficace per il contenimento della dispersione escolastica e come strumento anche per favorire la transizione nel mondo del lavoro. Quindi vogliamo condividere questa esperienza con tutte le scuole. Diciamo che noi ci preoccupiamo soprattutto come agenzia, come ente in house del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale Ampal di aiutare i referenti regionali e territoriali a fare rete e a lavorare per facilitare le cosiddette transizioni da scuola a scuola, da scuola a lavoro, da lavoro a formazione e quindi il nostro compito è proprio quello di aiutare sia le scuole, sia le università, sia gli ITS ma anche il mondo della formazione affinché i loro percorsi aiutino i giovani soprattutto ad individuare le opportunità migliori per entrare nel mercato del lavoro. Passiamo un'altra notizia regionale. L'assessore all'infrastruttura Alessandro Arricò esprime soddisfazione per il via libera al finanziamento da 3,4 miliardi di euro per il raddoppio ferroviario della tratta Palermo-Catania annunciata stamattina dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Un risultato evidenzia l'esponente del governo Schifani reso possibile anche grazie al grande lavoro fatto in tempo record dalla regione siciliana per quanto riguarda tutti gli atti propedeutici, conferenze di servizi e rilascio dell'intesa, adempimenti che hanno consentito a rete ferroviaria italiana di poter pubblicare i bandi di gara entro il 31 dicembre scorso. Arricò aggiunge, per la mobilità nell'isola si tratta di un intervento strategico che consentirà di avere una rete ferroviaria più moderna rispetto a quella attuale realizzata alla fine dell'Ottocento, come nelle altre regioni italiane. Un nuovo tracciato che consentirà ai treni di viaggiare anche a 200 km orari, raddoppiando l'attuale velocità. L'INAIL Prevenzione, finanziamento di oltre 21 milioni di euro per la sicurezza delle imprese. I dettagli. Con il nuovo Bando ISI 2022, l'INAIL mette a disposizione delle aziende che investono in prevenzioni oltre 333 milioni di euro a fondo perduto, di cui oltre 21 milioni solo per l'isola, per sostenere la realizzazione di progetti per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 2010 ammontano ad oltre 3 miliardi di euro gli incendivi a fondo perduto messi a disposizione dall'Istituto per aiutare le imprese che investono in prevenzione. Come per quello nazionale, il Fondo del Bando ISI per la Sicilia è suddiviso in 5 assi di finanziamento, differenziati in base destinataria alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Al primo asse è destinata la quota più grande pari a 9,8 milioni di euro, suddivisi in 9,5 per i progetti di investimento e 300 mila per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Il secondo asse prevede 2,3 milioni di euro per la realizzazione dei progetti, per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Lo stanziamento del terzo asse destina alla Sicilia 5,3 milioni di euro per progetti di bonifica da materiali contenenti a miando, mentre il quarto mette a disposizione quasi 700 mila euro per progetti per micro e piccole imprese operandi nella ristorazione. L'importo del quinto asse è riservato ai progetti per le micro e piccole imprese operandi nel settore della produzione primaria dei prodotti agricole invece di 3,6 milioni di euro. Con un fondo complessivo pari a 21 milioni, la Sicilia si attesta all'ottavo posto tra le regioni beneficiari di un finanziamento così elevato. Finanziamenti da richiedere entro il 16 giugno, la prima fase della procedura per l'assegnazione dei 333 milioni di euro prenderà il via il prossimo 2 maggio. L'imbegno di tutta la struttura regionale dell'Inail è diretto a fornire tutto il supporto e la consulenza necessaria alle aziende siciliane, che vorranno investire per migliorare la sicurezza dei propri lavoratori. Gli interventi che verranno realizzati forniranno anche un contributo all'economia regionale. Queste le dichiarazioni del direttore regionale Inail Sicilia, Giovanni Asaro. Parliamo adesso di spettacolo con la favola del piccolo Riccardo, che sarà protagonista del nuovo programma di Chiambretti. I particolari. Riccardo Calogero Palmieri vive a Serra di Falco, frequenta la quinta elementare rodari dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Caltanissetta. A dieci anni è un immenso amore per la musica e per il violino, tanto da essere uno dei protagonisti del nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti, la TV dei 101, da domani per tre puntate su Canale 5. Ha un talento eccezionale, già a nove anni, oltre ad avere vinto più di venti concorsi, è stato anche ammesso per meriti speciali al Conservatorio Scarlatti di Palermo e frequenta una delle più prestigiose accademie italiane, dove perfezione al suo studio con un team di maestri e esperti. La mia passione è nata da piccolo, siccome pure i miei genitori suonavano, ho deciso di suonare anch'io, però uno strumento diverso da tutti, il violino. Il mio brano preferito è Bruc, il concerto per violino in orchestra numero uno. Perché in Andal al primo ascolto mi è piaciuto tantissimo? È perché quando ero un po' più piccolo, mio papà che suonava in orchestra mi ha portato ad ascoltare questo concerto con un violinista molto bravo, Stefan Milenkovich. Un amore per la musica che nasce da papà Fabio, egoista, e mamma Barbara Rosana, flautista. Riccardo, sin da quando è nato, ha manifestato questa sua grande passione per la musica. Mi ricordo che lui è nato prematuro e mi ricordo che il papà all'inizio metteva nella sua colletta la musichetta e tutte le sinfonie di Mozart. Un po' lui ci ha abituati a questo tipo di emozioni, però è un'esperienza nuova e diversa. Sicuramente un grande pubblico, una rete importante che fa milioni e milioni di ascoltatori. È soprattutto un'esperienza nuova per Riccardo, perché voglio ricordare a tutti che Riccardo nasce come musicista classico, per cui un'esperienza del genere gli ha permesso sicuramente di fare nuove amicizie, di fare nuove esperienze, ma anche di intraprendere un attimino un tipo di musica particolare. Riccardo e il suo talento che continua a stupire da quasi 13 mila followers su Instagram che seguono i suoi percorsi. Le ore di studio, la spensieratezza, un bambino che ama il mare, noto, sua città d'origine e la Sicilia, una vita di studio, scuola, aerei e tanta gioia nel suo sguardo quando suona il suo violino. Caltanissetta, Parsifal Piano Trio in concerto al Consorzio Universitario. Grande successo per il Parsifal Piano Trio, che si è esibito presso l'Aulamagna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, regalando al pubblico presente un'esperienza musicale unica. Il trio, formato da violino, violoncello e pianoforte, fondato nel 2001, ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia in Italia che all'estero. Siamo il Parsifal Piano Trio, violino, violoncello e pianoforte, siamo molto felici di essere qui a Caltanissetta, in maniera speciale perché conosco il maestro Michele Petitto da tantissimi anni e quando mi ha invitato per me è stato veramente un grande piacere. Siamo qui per questo concerto che prevede musiche di Clara Vic, il trio, opera 17 e la seconda parte interamente dedicata ad Astor Piazzolla con cinque brani tratti dal nostro ultimo CD che è uscito in occasione del centenario della nascita di Piazzolla nel 2021 che si intitola Trio Fortango. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Musicale e Culturale Classica e d'Intorni di Caltanissetta presieduta dal maestro Michele Petitto con il supporto delle associazioni archeologiche nissena, alchimie e d'antalighieri. Continuiamo con il teatro Green nel Salvaterra in canta al teatro Margherita di Caltanissetta. Vediamo. Lo spettacolo teatrale Green nel Salvaterra ha fatto il suo debutto al teatro Regina Margherita di Caltanissetta e ha lasciato il giovane pubblico incantato. Grazie alla maestria degli attori e alla regge sapiente, gli spettatori sono stati trasportati in un mondo fantastico dove natura e ambiente sono stati al centro dell'attenzione. Lo spettacolo è da una parte un po' fantasioso perché ha un aspetto un po' fantasioso e dall'altra parte anche un aspetto molto reale, quindi questa sorta di borgo cajordo potrebbe essere una delle nostre città. E invece il borgo tranquillo dove l'altro paese dove vive Miss Wonderful è il paese perfetto che forse potremmo anche identificarlo come il nord, sicuramente il nord che è più efficiente oppure un paese ancora più perfetto in questo mondo che vorremmo, un mondo meraviglioso dove possiamo vivere veramente a contatto con l'ambiente, dove ci sia tutto, dove ci sia una raccolta differenziata ma soprattutto ci siano tutto con energia solare, con energia pulita, dove la gente vive bene. E sicuramente questa è un'altra cosa importante, quando si fa un lavoro sull'ambiente considerare che è qualcosa che ci tocca veramente perché vivere a contatto con la civiltà è qualcosa che ci cambia e ci dà sicuramente una possibilità di vivere meglio. Questa nostra passione di teatro per l'infanzia nasce da molto tempo e noi lo facciamo proprio perché crediamo che si debba abituare i bambini, i ragazzi, i giovani ad andare a teatro perché è una forma importante che educa anche un pensiero creativo, un pensiero critico, mentre ci sono altre forme che invece educano a un pensiero unico. Invece è importante che la gente sappia che i ragazzi si abitano a pensare sempre in maniera molto molto critica, soprattutto a vedere e ad essere curiosi, anche questo è molto importante. Tralevare in preghiera, il terzo appuntamento alla sala espositiva in via Colaianni. Terzo appuntamento alla sala espositiva delle Vare di Tralevare in preghiera. Dopo la via Crucis, presieduta dai parrogi di Sant'Agata, Santa Lucia, Sacro Cuore, Santa Flavia, Santo Spirito, Santa Barbara e Santissimo Crocifisso Sant'Isidoro, è seguito lo studio analitico delle Ladate del Venerdì Santo di Caltanissetta, a cura di Don Alessandro Rovello. Le Ladate, o Lamentanze, sono antiche forme di canti religiosi, cantati durante i riti della Settimana Santa. Sono stato chiamato a fare una riflessione sulle Ladate, che sono un momento della pietà popolare della nostra città, in un contesto particolarissimo che è quello della sala espositiva delle Vare. Sono felice perché si crea un incontro molto bello tra la spiritualità, la cultura e le tradizioni popolari, la nostra pietà popolare, che così recupera un suo valore più profondo, più bello e ci aiuta nel nostro cammino, attraverso il tempo anche quaresimale, verso la gioia e la festa pasquale. Presentato al Consorzio Universitario Nisseno il docufilm Solo di Passaggio. Giovedì pomeriggio, nell'Aula Magna Leonardo e Sciaccia del Consorzio Universitario, ci sarà la presentazione del docufilm Solo di Passaggio, testimonianze in cammino, migranti in Libia. Il documentario è a cura dell'Osservatorio sul genere di crisi in Tripoli e promosso dalla Convenzione dei diritti del Mediterraneo. L'Osservatorio di genere in situazione di crisi ha come missione quella di aiutare le vittime di violenza ed abusi sessuali durante i conflitti. La Convenzione per i diritti del Mediterraneo ha istituito un tavolo tematico permanente che riguarda la mobilità umana come diritto inalienabile. Interverranno durante il dibattito Suad Al-Waidi dell'associazione Al-Marsed, che ha realizzato il docufilm, Alfio Foti, portavoce della Mediterranea Convention on Human Rights e Leo Luca Orlando, ex sindaco di Palermo. Sport e teatro, non volevo fare il portiere, rappresentazione di un calcio romantico presso il Teatro Margherita della città. Il servizio. Al Teatro Margherita è andata in scena la rappresentazione teatrale e musicale di un calcio romantico che non c'è più, tratto liberamente dall'ultimo libro di Rino Carlino dal titolo Non volevo fare il portiere. Dal libro Non volevo giocare in borta, che poi si è deciso Non volevo fare il portiere. Io non sono uno scrittore che scrive di sport, ma scrive di amore. Chi mi ha seguito nel mio percorso sa che scrivo d'amore, qualcosa di drammatico e anche di poesie. Quindi per me una novità assoluta e in questo ho forse poco aiutato da amici che mi hanno quasi costretto in tempo di pandemia a scrivere un libro sul calcio, su quello che era il calcio, con i sentimenti e gli amori addirittura. È un romanzo in effetti, non è un libro di sport dove si elencano i dati, i gol e altre cose, assolutamente no. È un romanzo della vita dentro lo sport. Mi è costato due anni di fatica perché non era facile miscelare sport a sentimento, sport a amore. È nata così un po' goliardicamente questa idea di tirare fuori uno spettacolo facendo riferimento al libro. Tutte le persone che saranno coinvolte lo faranno in maniera simpatica, con pochi riferimenti in verità sul testo scritto sul libro. È molto più insomma sullo scambio di esperienze perché è un'opportunità per poter rivedere decine di persone che hanno condiviso un momento bello della loro vita tramite il calcio. Abbiamo cercato di contornarlo e colorarlo con degli interventi musicali, con delle piccole performance sul palco. Chiudiamo con il calcio. Tutto pronto per domenica prossima per l'esodo rosso-azzurro. Canicati Catania è ufficiale, si giocherà al Tomaselli e potrebbe sancire la promozione dei rosso-azzurri in Serie C. Il servizio. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale di Lettanti ha comunicato che la gara Canicati Catania, in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30, è valevole per la ventottesima giornata del girone I del campionato di Serie D, si dispoterà presso lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. Adesso c'è l'ufficialità e i tifosi del Catania cominciano a preparare l'esodo verso Caltanissetta per preparare la festa promozione e il ritorno nei professionisti. C'è fibrillazione tra i tifosi rosso-azzurri che in settimana cominceranno a preparare coreografie e striscioni per impreziosire lo stadio Tomaselli. I tifosi del Catania porteranno quel senso di appartenenza e passione che li contraddistingue da sempre, anche in questo anno di Purgatorio, dove non hanno mai smesso di fare per la loro squadra anche tra i dilettanti. Intanto oggi Lodi e compagni riprenderanno gli allenamenti in vista del Canigatti. Il tecnico Ferraro ha organizzato una settimana normale di preparazione, mentre lo staff dirigenziale discute se andare in ritiro a Caltanissetta il sabato oppure raggiungere il capologo Nisseno la domenica mattina. Si aspettano ben 4.000 tifosi provenienti da Catania per cominciare la festa promozione da continuare poi in città, Canigatti permettendo. Era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui, vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento con la nostra programmazione. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora attiva sull'Italia la stessa perturbazione che ha già attraversato il centro nord, ora si è spostata verso le regioni meridionali, ma prima di lasciare l'Italia porterà appunto degli acquazzoni al sud, a fine giornata comunque si muoverà verso la Grecia. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese e come vedete ancora degli annuvolamenti insisteranno sulle regioni del medio adriatico e nel sud peninsulare. E sono poi queste le zone che vedranno appunto anche delle precipitazioni. Controlliamo la previsione delle piogge e come noterete dei piovaschi e delle acquazzoni interessano il medio adriatico, le regioni meridionali peninsulari, qualche fiocco di neve sulla penino centrale. Nel sud Italia invece situazione tranquilla. Quindi in definitiva tornerà il sole questo mercoledì in tutto il nord, sul medio alto Tireno, anche sulle isole maggiori. Invece pioggia, acquazzoni, medio adriatico, sud peninsulare, al sud anche con qualche temporale e comunque vi devo segnalare un po' per tutta Italia, che più che meno anche il vento, che si farà sentire davvero in diverse zone del nostro paese. Temperature in diminuzione temporanea al sud, ma comunque in tutta Italia si sta abbastanza bene. Per i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.